200 giovani campani di 15 anni saranno formati e inseriti nel mondo del lavoro grazie al sistema duale, un sistema che arriva dalla Germania e che in Italia è partito in via sperimentale in Lombardia, che prevede un modello formativo integrato tra scuola e lavoro. Una cerniera che vede gli enti formativi e i datori di lavoro collaborare fianco a fianco per costruire figure professionali adeguate alle esigenze delle imprese. Il nuovo strumento è stato presentato nella sede della Camera di Commercio di Napoli durante un incontro che ha visto la firma delle convenzioni per l'avvio delle attività della sperimentazione duale in Campania. Oltre all'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani erano presenti il commissario della Camera di Commercio Girolamo Petrone, i rappresentanti delle imprese che accoglieranno i ragazzi e quelli dei centri di formazione professionale e con loro il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba. Con i primi 90 abbiamo i primi quasi 200 ragazzi che inizieranno a formarsi in una maniera però diversa, non una formazione semplicemente in aula ma una formazione come ci piace dire con mestoli, cacciaviti, con tutti quelli che sono gli strumenti. Testeranno le professioni realmente lavorando e questo avere a fianco della formazione le imprese che collaborano credo che sia la maniera più efficace per avvicinare appunto una formazione al mondo del lavoro. Non possono più essere dei compartimenti stagni, bisogna anche scuola, lavoro, sistema di comunicazione tra l'uno e l'altro diventino l'elemento di forza in modo che le competenze che devono essere acquisite e che servono alle imprese diventino elemento ordinario dei percorsi di istruzione e di formazione professionale. Grazie. Grazie.